E diamo subito il benvenuto a Giancarlo Giannini, tra noi a Pioppi, travolto da un insolito destino nel mare di Pioppi. Mi avete travolto qua, guarda, sto aspettando in questo argolino, bellissimo, per fare questa intervista. Stiamo aspettando il sindaco, giustamente, avrà da fare delle cose. E niente, stasera parleremo un po' con il vostro pubblico, con il pubblico di Pioppi. Pioppi, sì. Il mare è il suo fil rouge, parte dalla Spezia, arriva a Napoli. Mare, mare, che ci dice questo mare? Ma il mare per me è stato sempre un elemento molto vivo, molto mobile. Il mare è stato anche qualcosa che per i poeti l'hanno rappresentato. Pensa Ulisse, se non avesse avuto il mare, Dante non l'avrebbe potuto raccontare come sprofondato nel mare, che poi in realtà non è così. Però Dante ha detto, la morte di Ulisse è questa, sul mare, il mare. E Ulisse sfida il mare contro gli dèi, e gli dèi lo puniscono e lo fanno inghiottire. Forse faranno così anche con me, ma non in questo mare, forse alla Spezia. Non si permetterà la mia città. Sono stato poco, perché io sono di origine toscana, però alla Spezia ho vissuto diversi anni e ho avuto il piacere di poter assaporare quello che faceva mia nonna, dei piatti meravigliosi come la pasta al pesto. Io sono The King of the Pest, in America mi hanno definito così, perché so fare la pasta al pesto in un modo meraviglioso che chi non la sa fare non è buona, ma chi la sa fare diventa un ettare di vino. E poi tutta un'altra vita a Napoli, dal punto di vista gastronomico. Non tanto dal punto di vista gastronomico, perché i napoletani dicono che fanno la genovese, molto buona. La genovese me la faceva mia nonna quando avevo tre anni, che è quella carne fatta col sughetto, con le cose, con le cipolle, eccetera. Gli napoletani si sono appropriati anche di questa, la genovese, ma se si chiama genovese, siccome c'erano i nai, eccetera, e poi loro cucinavano benissimo sulle navi, perché c'è stato, gli hanno portato questa cosa, i napoletani, è nostra. E io gli dico, vabbè, non è nostra perché mia nonna a tre anni me la faceva la Spezia. Si dice che Ulisse quando arrivò a Italia, che poi continuò a viaggiare, lei è arrivato a Napoli, e poi però al sud, ha delle conoscenze di queste zone. No, guardi, Napoli è stata per me la città che mi ha... io faccio l'ottore perché ho studiato a Napoli. Abbiamo studiato, abbiamo studiato. Perché? Tu dove hai studiato? No, no, ho studiato la sua... Ah, hai studiato me? Sì, le sue peregrinazioni. In una scuola bellissima che era l'Alessandro Volta, ho studiato elettronica, avevo dei professori straordinari, non so se sono ancora straordinari adesso, spero di sì, che ti insegnavo... avevo come professore di fisica il compagno di banco di Enrico Fermi, quindi un genio, ci raccontava delle cose meravigliose. Però Napoli per me è stata proprio l'espressività più viva che poi mi ha fatto fare l'attore. Pensa camminavo, facevo delle passeggiate a Napoli bellissime, sentendo questi suoni, così sui muri c'erano queste scritte che ancora adesso, a distanza di 50-60 anni, vado lì, le trovo uguali.